Hai dormito all'aperto? Perché una bella strigliata non ti farebbe male. Sono pulito. Io ho sempre un buon profumo. Io non lo so perché, ma è così. Senti. Ehm, no, ti credo sulla parola. Gina, tu vuoi sposarmi? Anch'io sono un pittore. Mi dispiace. Hai scherzo. Ci arriverai. Quanto ci vuole per diventare famosi? Quattro anni. Andy Warwick. Sì, quella Andy Warwick. Volete comprare dell'analfabetà? Dieci dollari. Mi sembra interessante. Non ci hai lavorato molto. Posso dartene cinque. E neanche ci lavora sulle sue cose. Chi l'ha fatto questo? Jean-Michel Basquiat. Beh, mi sembra un nome già famoso. Per quanto ne sai, potresti anche essere una metera. E credimi, non si può mai dire. Voglio smetterla, appunto. Però sarebbe proprio un peccato. Tu sei un vero pittore. Questa è la vera boccia dei bastigoni. Ho visto i graffiti e ho sentito dire meraviglie dei suoi dipinti. Lei si considera un pittore o un pittore nero? Sono molti colori. Solo i neri. Una star. Grazie. 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 Grazie.